sai ieri il gemello strano mi ha chiesto il numero anche se penso che è stato l'altro che ha fatto finta di essere lui no dai perché va bene una persona orribile ora mi accompagni da una parte quale parte è che ho detto daniele che devo andare su allenamenti la sottona per quel maschio tossico di merda perché dice che troppo la sottona si vada e le tue amichette che dicono non ti accompagnano non gliel'ho chiesto e come mai beh giravoce che greta quest'estate ha fatto una cosa a tre e che di mezzo c'era anche daniele non voglio parlare di lui con le ragazze che pallenino